In questo tempo di quaresima i cristiani devono essere segno di speranza. Il messaggio lanciato da donna Leonardo Pinnelli durante l'omelia della celebrazione tradotta nella lingua dei segni come ogni domenica nel santuario del Santissimo Salvatore di Adria. Ascoltiamo. Mercoledì scorso con il solenne e sacro rito delle ceneri abbiamo iniziato il nostro cammino quaresimale un cammino che ci porta verso la Pasqua del nostro Signore Gesù Cristo ma anche verso la nostra Pasqua. Abbiamo accolto le ceneri come esperienza viva della nostra umanità e della nostra fragilità. E' stato ricordato a noi l'importanza del nostro essere terra, del nostro essere polvere. E' stato ricordato a noi l'importanza e il bisogno di Dio nella nostra vita. Ed è stato fatto a noi un invito a essere preziosi agli occhi di Dio e agli occhi degli uomini. La tentazione per rimanere in tema odierno è quella che nel periodo quaresimale ci viene subito in mente il fatto di scegliere ciò che si può fare e ciò che non si può fare. Attenzione! Permettetemi di parafrasare quanto appena detto dicendo che la prima cosa che il cristiano non deve fare è quella di non essere triste. Grazie a tutti!